La giornata di oggi sarà dedicata proprio alla tematica della progettazione di un prodotto circolare e quindi mi piacerebbe coinvolgerla in questa nostra discussione e analisi chiedendone se può iniziare spiegandoci che cosa si intende per Design for Circularity. Beh, grazie, insomma, è una domanda complicata ma proverò a rispondere dando qualche indicazione. Beh, la prima, partiamo da che cosa non è il Design for Circularity, che forse è semplice. Non è sicuramente Design for Circularity dire o immaginare un prodotto fatto al 100% da materiali riciclabili. Perché? Cosa vuol dire, perdonatemi la provocazione, che se io dico che il materiale è al 100% riciclabile vuol dire che qualcun altro si dovrà preoccupare di riciclarlo o di gestirne il fine vita. E questo è esattamente il modello lineare a cui siamo abituati. Il Design for Circularity, quello vero a mio parere, cambia invece la prospettiva. Cioè io disegno un prodotto immaginando sin da subito che debba essere disassemblato, recuperato, riusato, reimpiegato e quindi metto in atto già nella fase di progettazione e di design tutto ciò che permette di massimizzarne la capacità di ritornare come componente, come materiale in fondo al suo ciclo di vita come prodotto. Faccio anche qua un paio di esempi molto concreti. Se noi utilizziamo o disegniamo un prodotto e mettiamo insieme o incogliamo fra di loro parti o materiali che sono diversi, per questo nella fase di produzione magari ci permette anche di ottenere un risparmio di costo. E quindi in una progettazione lineare andiamo tranquillamente in questa direzione. Ma quando questo prodotto va a finire nella sua vita dopo l'uso e deve in qualche modo essere reimpiegato, ecco che questa scelta di incollare fra di loro due materiali completamente diversi rende difficilmente separabili i materiali, difficilmente riciclabili i materiali e quindi anche se in sé i due materiali sono al 100% riciclabili, questa scelta di design lo rende rende molto difficile rimettere in circolo queste risorse. Ecco, immaginarsi invece, proiettarsi provocatoriamente al fine vita del prodotto e fare scelte che ottimizzino quello che al termine della vita del prodotto mi permette di riportarlo nelle condizioni originarie di componenti o di materiali è il vero design for circularity. Grazie mille professore per questa delucidazione che trovo sia utilissima perché purtroppo penso che oggi ancora si sottovaluti molto quanto la progettazione sia penetrante proprio su tutta la vita di un prodotto e quindi che non vada a prendere in considerazione banalmente solo i materiali utilizzati ma che appunto possa determinare tantissimo anche l'intero modello di business che può essere adottato per un prodotto o per un servizio. Professore, a questo proposito, siccome molte delle aziende, anzi in realtà siccome tutte le aziende che sono qui con noi oggi hanno in comune tra loro il fatto di aver adottato in qualche modo la digitalizzazione all'interno della loro azienda, mi stavo chiedendo come può essere d'aiuto l'innovazione digitale in questa fase di progettazione circolare? Beh, allora il digitale è fondamentale, no? Io scrivevo nel mio libro un po' provocatoriamente non ci può essere economia circolare se non c'è tecnologia digitale, no? Perché per tenere vivo il mio prodotto, per monitorare dove il prodotto è, quanto è stato utilizzato, chi lo sta utilizzando, per recuperare le informazioni, una volta che ritorno in... questo prodotto ritorna alla mia disponibilità rispetto a quanto è stato usato, quanti cicli di utilizzo ha fatto, non posso fare a meno del digitale. Digitale che, diciamo, è sia nella fase iniziale, quindi proprio di progettazione, embeddare all'interno del prodotto tutta quella sensoristica, quelle... o quelle informazioni digitali, no? Pensiamo anche a quello che sta provando a fare la normativa europea sul passaporto digitale dei materiali e dei prodotti, no? Quindi embeddare all'interno del prodotto sin dal principio una serie di... tecnologie digitali che poi mi aiuteranno a seguirlo lungo il suo ciclo di vita, manutenerlo magari in maniera più efficiente, e quando arriviamo al termine dell'utilizzo da parte del cliente, sapere immediatamente dov'è, con che caratteristiche posso andarlo a recuperarlo, dare le istruzioni a chi si occuperà di recuperarlo, di rimetterlo in circolo sul come fare. Ecco, tutto questo senza il digitale è impossibile e senza il digitale è anche impossibile rendere economicamente conveniente questo tipo di soluzioni, perché fammi essere un po' provocatorio in questo, perché davvero l'economia circolare sia economicamente conveniente, devo garantire dei flussi di ritorno dei prodotti e dei materiali che siano, anche se non possono essere il 100% dei prodotti e materiali che mi metto sul mercato, ma molti vicini a questa soglia, no? Che altrimenti vorrebbe dire che se riuscisse a recuperare soltanto il 10-15% delle risorse che ho messo nel prodotto, il gioco non vorrebbe la candela. Se invece io riesco a recuperare una larghissima parte dei prodotti che giungono alla loro fine vita come prodotto e rimetterli in circolo, ecco che allora l'economia circolare diventa anche un'economia. Ma per farlo ho bisogno di tracciarli e per tracciarli e sapere ed evitare che questi flussi si disperdano nel nostro sistema, ho bisogno di un'economia digitale. Grazie mille, professore. Allora, devo dire che sicuramente sapevo dell'esistenza del passaporto digitale, però non ero ancora così tanto consapevole di tutte le implicazioni che porta. E spero sicuramente che tutte queste nuove tecnologie ci porteranno e ci aiuteranno a raggiungere sicuramente un nuovo livello di sostenibilità per l'economia circolare. E parlando di queste tecnologie, appunto, stava parlando molto e ha sottolineato l'importanza anche della misurazione, quindi del calcolare. E questo mi fa sorgere un'altra domanda, perché con la misurazione ci può aiutare a distinguere una vera azienda circolare da una che invece fa greenwashing? Beh, allora, diciamo che oggi si parla addirittura anche di circular washing, perché comincia a diventare un termine di utilizzato. E talvolta però è anche un po' inconsapevole questo circular washing, nel senso che l'azienda lo fa appunto pensando, comunica in un certo modo pensando di farlo coerentemente. La misura è fondamentale e diciamo che la misura deve partire dalla condizione proprio di quantità e materiali. Cioè il grosso valore dell'economia circolare, tutto il sistema dell'economia circolare si basa sul fatto che io posso soddisfare la domanda finale di prodotti e servizi con una minore quantità di input, ma non perché faccio bottiglie più sottili o perché riduco la quantità di materiale all'interno del singolo prodotto, ma perché quella materiale, invece che vivere per un prodotto solo, vive per più prodotti, no? Quindi mi permette di sostenere una domanda maggiore. Ecco, perché questo concetto si traduca in realtà e quindi l'azienda possa effettivamente comunicare la sua circolarità, questo flusso di ritorno in quantità, in tipologia, in valore io lo dovrei poter misurare. In realtà lo posso misurare, sono ancora oggi onestamente molto poche le aziende che pur dichiarando intenti di circolarità si mettono alla prova con misure di questo tipo, no? Molto spesso traducono la circolarità con misure di sostenibilità. Mancate emissioni, mancato consumo di risorse pregiate come l'acqua, nei processi produttivi, eccetera, eccetera, che si va di bene. Non voglio, diciamo, minimizzare come impatto, ma è sicuramente un impatto rilevante. Però se vogliamo, e questo penso sia una cosa importante anche per chi vuole fare economia circolare, no? Si parla del manifesto dell'economia circolare. Se vogliamo che l'economia circolare sia distinguibile effettivamente dalla, passatemi il termine tra mille virgolette, normale sostenibilità, dobbiamo un po' uscire anche dalla normale misura del footprint in termini di emissioni di CO2 o in termini di consumo di acqua e ragionare davvero sulla nostra capacità di recuperare i materiali, no? Perché solo così davvero possiamo dire di misurare l'economia circolare. Tecnologicamente o tecnicamente è fattibile? Qualche, diciamo, esperimento in questo senso c'è, però ecco, c'è ancora tanta strada su questo fronte da mettere in cantiere. Grazie mille, professore. Questo lo trovo interessantissimo perché con la sua risposta ha un po' confermato quella che è sempre stata un po' una mia tesi perché appunto si parla sempre di greenwashing in senso molto malvagio, però ho sempre trovato che invece il confine non sia sempre così chiaro e che tra appunto un greenwashing soltanto a scopo di marketing e invece fare un claim con tutte le buone intenzioni, ma che magari è poco verificabile, poco veritiero, cioè il confine è molto labile, quindi bisogna stare sempre attentissimi a volersi dire sostenibili e circolari. Davvero. Fammi riprendere l'esempio da cui sono partito, no? Dire che un prodotto è 100% fatto con materiali riciclabili in sé è un claim anche corretto, no? Magari davvero, no? Io uso solo metallo, plastica, legno, vetro o altri materiali che sono riciclabili, non sto dicendo qualcosa di scorretto, quindi non sto comunicando in maniera errata. Però è altrettanto vero che questa dichiarazione, se io lascio poi nelle mani di qualcun altro il fatto che quel materiale sia davvero riciclato, allora non mi rende circolare, no? Anche se non potrei essere tracciato, è difficile dire che l'ho fatto in mala fede, ecco. Certo, grazie mille. Allora, professore, prima di passare con le aziende alle nostre attività volevo farle l'ultimissima domanda e questa volta invece è rivolta al suo libro, quindi al libro che ha scritto con Igea, L'impresa circolare. E volevo chiederle cosa l'ha spinta a realizzare questo libro e se magari durante la stesura, la realizzazione di questa opera ha fatto qualche scoperta in cui non si aspettava di incorrere, diciamo. Allora, guarda, qui ti devo dire, la spinta, grazie per la domanda innanzitutto, la spinta è nata un po' dalla volontà di chiarire il concetto di economia circolare, no? Io dico sempre, noi in Italia tendiamo a parlare di economia circolare come economia del rifiuto, no? E quindi l'associamo soltanto al ah, ho riutilizzato il rifiuto per farci attività artistiche o altre cose, no? Questo noi lo battezziamo economia circolare. Non voglio dire che non lo sia da un certo punto di vista, però dentro e dietro l'economia circolare c'è molto di più, no? Ci sono prodotti ridisegnati per essere circolare. Ecco, quindi un po' la volontà di scrivere questo libro nasceva per dire che l'impresa circolare è molto di più dell'impresa che si occupa di gestire meglio o minimizzare i rifiuti, no? C'è un pensiero, c'è un'attenzione, c'è anche un ecosistema di business che si muove in maniera molto diversa, no? E la cosa che mi ha fatto piacere scoprire durante la stesura di questo libro, no? Che poi è anche il frutto di un'attività che da un po' di anni mi occupa e che mi ha permesso di incontrare tanti imprenditori, tante aziende piccole e grandi che hanno cominciato a fare economia circolare, che si trovano in questa fase di transizione, no? Io dico oggi, se volessimo dire un'impresa completamente circolare, la troveremo probabilmente davvero con il lumicino nel nostro paese, ma non solo. C'è una forte spinta alla transizione verso la circolarità, no? E trovare così tante esperienze, molte delle quali poi racconto all'interno del libro, insomma, mi ha fatto molto piacere perché ho ritrovato in questi imprenditori, in questi imprenditrici, un po' questa spinta, no? Questa voglia di inventare qualcosa di nuovo sulla circolarità, che non è soltanto appunto il ridurre la componente di rifiuti che generavano. Grazie a tutti!